Ciao a tutti! Vi sarà già capitato nella vita di avere a che fare con immagini troppo piccole per quello che ci dovete fare? Come potete vedere questa immagine è di soli 300x300 pixel a 72 punti. Questo significa che è troppo piccola per farci pressoché qualsiasi cosa. Ora, se noi andiamo semplicemente a ingrandirla e la portiamo per esempio a 1000 pixel, vediamo che il risultato non è proprio dei migliori. Così vista a 100% presenta dei problemi, qui c'è dell'aliasing che assolutamente noi non vogliamo vedere, per cui torniamo indietro. Con la nuova release di Photoshop CC abbiamo la possibilità, andando su preferenze e anteprime tecnologie, di abilitare questa spunta Mantieni i dettagli 2.0 e gli diciamo ok. A questo punto quando noi andiamo a dirgli che vogliamo 1000 pixel, gli diciamo anche ricampiona con Mantieni i dettagli 2.0. Quello che succede è che avremo questo fader, così è a 0 e vedete che l'immagine è praticamente uguale a prima. Quando noi andiamo a incrementare però, vedete che il disturbo viene eliminato, fino ad arrivare a un punto in cui è praticamente assente. Una bella differenza rispetto a prima. Ovviamente questa non è una bacchetta magica che ci permette di ricampionare tutte le immagini e portarle a dimensione senza perdere qualità. Però, piuttosto che niente, il risultato adesso è quasi accettabile. Teniamolo a mente. Grazie a tutti.